Un'intervista doppia, abbiamo qui i numeri 1 e 1 QX1, Nicola Montalbini QX2, Mattia Torraco Bene, allora è un'intervista doppia No, fate gli scherzi Com'è andata oggi? Partiamo da Mattia Bene, dai È andata bene? Sì, a parte che mi sono fatto scappare la pole position all'ultimo giro Però due manche La prima ho tribulato un attimino di più Per recuperare la prima posizione La seconda invece sono partito in testa E l'hai mantenuta fino alla fine Vi lasciamo velocemente In modo che non vi diamo troppa noia Nicola, anche te cosa dire? Io che dire, io ho andato tutto perfetto Pole position, due partenze in testa E ho gestito tutte e due le manche Che noio È divertente Ci fate divertire, è divertente vedervi E niente, cosa dire I nostri numero 1 italiani, eccoli qui Dai, forza ragazzi, alla prossima Grazie mille